Ciao a tutti in questo nuovo video, ora io oggi vi svelerò il futuro tramite la mia sfera magica, questa è una sfera che ha dei poteri inestimabili e vi svelerà il futuro, vi poter svelare il vostro passato che non ricordate e potrà svelarvi anche i vostri pensieri più ragogniti, potete solo fissare e domandare e io vi risponderò, non abbiate timore, la sfera vuole solo aiutarvi, come a me d'altronde, questa è una sfera fatta con il sale dell'Himalaya, luce usata in una seduta ipnotica ma serve soprattutto a svelarvi il futuro, il presente e il passato, del futuro, se avete delle domande ponetemelo, vedo che ci saranno molte cose complicate da superare, vedo delle difficoltà, delle incertezze, vedo un passato irrisolto, un amore un po' diciamo, difficoltà, ma si può tutto risanare nella vita che si abituisce, io vi invito a fissare la sfera e domandarli cosa, di cosa avete bisogno, sì, lei risponderà a modo suo, la sfera vi porterà un segno, dice, un segno che vi farà capire la vostra decisione di prendere, un segno di un cambiamento imminente, cercherò di farvi sparire, tutte le vostre tensioni, sempre con la sfera, fissatela, cercate di rilassarvi e stendetevi sul letto e ascoltate solo il suono della mia voce, immaginate, immaginate che tutti i vostri problemi compariranno, lo sicuro, io vi auguro che in questo poco tempo io possa avervi aiutato, purtroppo il mio tempo è scaduto, io ora vi lascio, ci riflettete, soprattutto sul vostro presente, imparate dal vostro passato, ma sognate per un futuro migliore, grazie a tutti! Grazie a tutti!